Buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulle traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade. Venerdì pomeriggio caratterizzato da traffico intenso per i consueti rientri delle attività lavorative che si sommano anche le partenze per il weekend. Ad ogni modo monitoriamo il real time, le immagini ci giungono in diretta da Prato Est, come vedete flussi veicolari intensi in entrambe le carreggiate, scendiamo alla dinamazione di Roma Sud e come vedete ci sono delle code che dalla 1, la Roma-Napoli, si dirigono verso il grande raccordo anulare, quindi traffico intenso, ma ci sono anche delle code motivate da alcuni incidenti. Con l'ausilio della grafica partiamo proprio dalla tangenziale ovest dove al momento ci sono 10 km di code per un incidente verificatosi tra il Biglio della 4 Torino-Trieste, Viale Certosa e Vigevenese-Vecchia e ancora ci trasferiamo sulla 13, la Bologna-Padova perché qui ci sono 7 km di code tra Bologna-Interporto e Altedo in direzione Padova. E raggiungiamo la strada statale 106 Ionica per segnalarvi un incidente che sta coinvolgendo il tratto tra Marina di Ginosa e Castellaneta, Marina in direzione Torino con una chiusura in entrambe le direzioni. E raggiungiamo la Sicilia, esattamente la strada statale 262-4 Palermo-Sciacca perché è chiusa tra Masseria la Chiusa e Cipirello. E per quanto riguarda le previsioni del tempo, comunicateci dall'Aeronautica Militare, indicano per domani una bellissima giornata primaverile, un po' ovunque con nubi su Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Vi fermo qui, grazie per l'attenzione da Alessandra Canali di Rai Pubblica Utilità, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Arrivederci! Grazie!